Sarà Salvatore Puttilli il candidato sindaco della lista Costruiamo Insieme che a San Ferdinando di Puglia concorrerà alle elezioni comunali della prossima primavera. La presentazione ufficiale è avvenuta ieri sera nel comitato centrale di Via Ofanto alla presenza di tutti quegli esponenti del centro-destra e del centro-sinistra che hanno voluto ammainare le loro bandiere per aderire a questo nuovo progetto civico. San Ferdinando ha vissuto una lesione democratica, ha detto Puttilli, a causa di un'amministrazione che ha proseguito il suo mandato pur avendo perso consensi e rappresentatività tra la gente e nel Consiglio Comunale, un fatto inammissibile, ha proseguito e che non dovrà più accadere. Puttilli, già sindaco della città dal 2007 al 2011, sfiorò la rielezione nel 2012 con la lista Uniti per San Ferdinando, cedendo per poco più di 100 voti all'attuale primo cittadino Michele Lamacchia. I partiti continueranno ad essere una forza propulsiva della città, spiega Puttilli, ma come spesso accade, per i piccoli comuni si è preferito mettere da parte tessere e appartenenze per costruire un progetto amministrativo serio e cambiare rotta rispetto al passato. C'è una città da liberare da un'amministrazione fallimentare, ha concluso Puttilli, e la nostra vittoria sarà una sorta di 25 aprile per San Ferdinando. Per quanto riguarda il futuro, noi ripartiremo da alcuni canovacci fondamentali, uno per tutti credo che sia quello della sicurezza, un problema ormai atavico della nostra provincia, non solo, sarà quella di ridare un po' di respiro all'economia agricola di questa città, di far fronte alle necessità che questi nostri concittadini impegnati nel settore primario hanno, esigenze che hanno di avere una maggiore rappresentatività in termini di competitività. Ci si potrebbe chiedere cosa può fare un comune per tutto questo. Io credo che possa fare molto nel tendere la mano e nel garantire questo percorso di democrazia, di sviluppo e di rinascita di questo paese. L'altra candidatura sul tavolo era quella di Arianna Camporeale, ma lo strumento delle primarie non convinceva nessuno, spiega la stessa interessata e in un momento in cui è necessaria l'unità del gruppo si sarebbe rischiato di creare inutili lacerazioni. Quando si utilizzano le primarie si utilizzano perché non c'è sintesi effettivamente su una persona e credo che in un momento politico, storico come questo, lo strumento delle primarie potesse distogliere quello che era il focus sull'obiettivo principale, che era appunto cambiare il metodo di governo e la faccia di questo paese. Sapevamo benissimo entrambi che si doveva fare una scelta e l'abbiamo fatta perché penso che la politica si fa con la testa, ma si fa soprattutto con il cuore e quando si fa col cuore metti al primo posto l'unità del gruppo e l'unità del gruppo serve a cambiare l'immagine di una città e serve anche a pensare che insieme si possono fare le cose soprattutto attraverso atti di generosità. Noi stasera stiamo a dimostrare che un grande atto di generosità l'abbiamo fatto l'uni verso gli altri. In attesa che il centrosinistra sciolga le sue riserve, oltre a Puttilli l'unica altra candidatura a sindaco ufficializzata sino ad oggi è quella di Mimmo Briguglio, consigliere comunale tranisse di Centro Democratico.